...e come dicevo prima, finalmente a X Factor dice una bella voce di una facciuna fate un applauso a Vara ...e come dicevo prima guarda ...e come dicevo prima ...e che cosa mi piace? Gimiazzi! 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 ...che ti piace in tattica modo per comunque questo ruolo ...che ti piace? ...pure il tuo padre ...e l'altro suoi di gatto ...allora No, allora, volevo chiedermi, perché abbiamo insistito, credo tutti quanti, a due momenti importanti, cioè quando un carico ha sottolineato la scelta fatta di prendere, di prendere la nuova persona, a distanza di attore, con quanto non c'è un lavoro, c'è una cosa importante, e fare non c'è un lavoro. Ragazzi, ci piace? Sì! Ha fatto la scelta giusta? Sì! Ha visto, ha visto, è stato facciato, voi, e non c'è anche il momento che c'è fatto un genio, un minuto, c'è questo... Stam andando con uno scrittore, probabilmente, non c'è perché non c'è un'attività, ok, non c'è un problema. Sì, il video, non ti ammazzate quello, perché c'è poter passare gli esperimenti, cosa devo capitare, siete lì vestita a pescacone, o durante l'ultimo, a tradizione, sulla strada, o vestito di prendere? Ragazzi, acqua e sapone, spremita, flexi, metta lì!